In questo periodo ci fa un gran parlare degli investimenti responsabili, uno degli argomenti più in voga nel settore finanziario. Mettiamoci però nei panni del piccolo investitore. Come fa a riconoscere l'offerta di qualità? Non è semplice perché non c'è uno standard oggi non solo in Italia ma anche in Europa e nel mondo di investimenti socialmente responsabili. Ancora oggi si fa tanta confusione tra investimenti etici e investimenti socialmente responsabili. Tante società stanno cavalcando l'onda perché c'è un trend molto importante in aumento soprattutto sugli investitori finali, quindi sull'investitore del dettaglio di curiosità di questi investimenti anche perché negli ultimi tempi le performance di questi investimenti non solo non sono stati inferiori a quelle degli investimenti classici ma sono stati ben superiori e quindi è un tema che è rientrato alla ribalta e soprattutto in questo tema ci stanno buttando in molti investimenti che prima di una certa data non avevano mai immaginato e pensato di essere sostenibili. Quindi è un trend che non è solo una moda, è un trend importante ma l'investitore finale chiaramente oggi benché possa incominciare ad avere una gamma a disposizione anche abbastanza interessante purtroppo non c'è ancora tanta cultura da far capire all'investitore finale qual è etico, sostenibile, che tipo di impatti crea, quali sono le performance eccetera. Basta a noi come società ma soprattutto anche ai distributori creare la giusta cultura nel cliente finale per far riconoscere per esempio gli impatti che crea un investimento sostenibile, quali sono le logiche che ci stanno dietro, quali sono le necessità di fare un investimento sostenibile che non è solo quello diciamo di creare degli impatti positivi ma anche quello di avere un controllo del rischio maggiore. Grazie al fatto che le performance sono migliori oggi degli investimenti sostenibili non è altro dato dal fatto che comunque in molti casi hanno evitato di comprare azioni che hanno avuto poi dei problemi. Ricordiamo per esempio la Volkswagen per il discorso dello scandalo sul diesel, British Petroleum per il discorso scandalo sul Messico. Chiaramente gli investimenti responsabili cercano di fare uno scoring interno per evitare di comprare dei titoli che possono avere dei grossi problemi perché azzardano molto e poi alla fine hanno diciamo degli impatti che provocano delle multe e quindi una caduta del prezzo delle azioni. Per quanto vi riguarda avete i prodotti ad hoc? Sì, abbiamo un'ampia gamma. Noi di Refasing siamo stati sostenibili fin dalla nascita perché nasciamo con la logica del microcredito. Abbiamo una gamma di otto prodotti ad hoc che si differenziano tra puntuazionari, obbligazionari, bilanciati e coprono un po' diciamo tutto lo spettro delle possibilità a oggi. Stiamo cercando di fare molta analisi, molta ricerca per migliorare i nostri processi interni ma soprattutto per lanciare altri prodotti sempre sulla base degli investimenti sostenibili. Grazie a tutti.